Noi abbiamo chiesto la convocazione di tutti i sindaci morosi e abbiamo fatto di più. I sindaci se non possono pagare venissero commissariati, perché dato che questo servizio lo paga l'utenza, lo pagano i cittadini e i sindaci questi soldi li prendono dai cittadini, o non sono bravi a incassare, o non gli soldi ne fanno altro, comunque noi ci devono pagare, perché noi siamo dipendenti pubblici a tutti gli effetti e vogliamo essere pagati come tutti i dipendenti pubblici. I comuni sono enti pubblici e hanno l'obbligo di pagare le fatture entro 30-60 giorni come previsto per legge e abbiamo chiesto di più al commissario che applicasse anche il 5% degli interessi.